Noi siamo contenti dell'operato della magistratura che ha dato chiarezza sul fatto che la legge è stata rispettata. Noi non abbiamo sposto nessuna denuncia di carattere giudiziario, è stato aperto un fascicolo da parte della magistratura autonomamente. Noi siamo stati sentiti dai carabinieri come insieme anche alla protagonista dell'evento. Quindi il fatto che venisse archiviato questo fatto, scusate il bisticcio di parole, era chiaro. La CGL fa chiarezza sul caso della 41enne padovana che avrebbe girato diversi ospedali prima di riuscire ad abortire. La legge è stata pienamente rispettata, ciò non toglie per il sindacato che rimane aperta una questione sui tempi di risposta alle donne. Chiediamo alle istituzioni di intervenire e di creare dei protocolli, di uniformare dei protocolli tra territorio e strutture ospedaliere in modo tale che le donne trovino un percorso se non facilitato ma almeno indicato. Insomma per la CGL devono essere apportati dei miglioramenti. Sono in corso due indagini, una sulla sanità e una sui consultori perché noi abbiamo molto sollecitato che ci sia anche un intervento, un monitoraggio sul funzionamento dei consultori che sono un pilastro fondamentale in termini di prevenzione e di educazione. Perché ricordiamoci che la 194 parla di interruzione volontaria ma è l'ultima spiaggia. Prima bisogna puntare molto sull'educazione e sulla prevenzione per evitare di arrivare lì.